Continua a salire il numero delle vittime dell'attacco missilistico russo che martedì sera ha distrutto un ristorante a Kramatorsk. L'ultimo bilancio ufficiale è di 11 morti e oltre 60 feriti. L'esplosione dei missili ha danneggiato decine di edifici circostanti. Il ristorante era frequentato da operatori umanitari, giornalisti e soldati. Le autorità ucraine hanno dichiarato di aver arrestato un sospetto. Numerosi paesi hanno condannato l'attentato che Bruxelles ha definito una dimostrazione di terrore. Il Cremlino da parte sua nega di aver attaccato obiettivi civili in Ucraina. Secondo Mosca, gli obiettivi erano militari. Nel frattempo la controffensiva ucraina continua. Si combatte su diverse linee del fronte, dove Kiev sostiene di aver conquistato posizioni negli ultimi giorni, sia a Donetsk che nella provincia meridionale di Zaporizia. Il Cremlino da parte sua negli ultimi giorni, Il Cremlino da parte sua negli ultimi giorni,